via via come a destra come a destra uno che va da prendere l'altra bandiera ciao a tutti ragazzi io sono Ornett e benvenuti in questo nuovo gameplay lungo lungo il tipo di partita è domination quindi ci sono tre bandiere e alla fine del tempo almeno due bandiere del colore della tua squadra dovrebbero essere su per vincere preso orco viene un po' 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 ok presa 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 vai all'altra vai all'altra no no a presto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti